Eccellenza, che effetto le fa vedere questi ragazzi che vengono anche da lontano, da tante zone della Diocesi, per vedere i Santi certamente, ma anche per cercare qualcosa forse di più vero. Si dice sempre i ragazzi non ascoltano, i giovani non ascoltano, ma quando si dà una proposta buona, sono qui in tanti? Sì, sono qui in tanti perché c'è qualcosa che li chiama e qualcuno che li ha convocati. Ecco, i ragazzi sono sempre capaci di radunarsi perché c'è un gruppo a cui si sentono di appartenere, c'è una parola in cui riconoscono l'autorevolezza, c'è un messaggio di cui sentono il bisogno. Il messaggio può essere quello della santità, una santità magari attuale come Carlo Acutis, Santo 2.0? La santità è sempre attuale, forse la terminologia santo, santità, è una terminologia che ha qualche momento di gloria, qualche momento di distanza, però in realtà vuol dire la qualità della vita nella sua altezza, nella sua bellezza, nella sua gioia. Grazie.